L'opera con cui partecipo alla collettiva The Power of Love per celebrare i 5 anni di vita di uovo alla pop si intitola Uovo Cosmico ed è una prova d'artista del 2022 in bianco e nero, da xilografia incisa sul legno, principalmente a coltello. Con questa stampa a tiratura limitata ho voluto rappresentare l'energia vitale e creativa dell'uovo, una sorta di movimento eterno e circolare che è principio e fine, che dire, evviva l'uovo!